Questo è un appello che i tifosi del Napoli immagino tutti, non è che ho la presunzione di rappresentarli tutti quanti, i tifosi del Napoli vorrebbero rivolgere alla squadra quando siamo ormai addirittura d'arrivo di questa stagione e l'appello è il seguente, basta con i rimpianti, appello che va rivolto tanto alla squadra quanto agli altri tifosi che ancora stanno a rammaricarsi per la sconfitta dell'andata contro lo Spezia, per qualche circostanza arbitrale che non ha aiutato il Napoli, vedi il gol annullato a Ozyman contro il Cagliari, per i tanti infortuni che il Napoli ha dovuto sopportare in questa stagione e che ancora sopporta perché mi piace ricordare che sabato contro lo Spezia mancheranno sia Coulibaly che Maximovic. Ora, che cosa vuol dire? Quattro partite, quanto manca alla fine? Quattro partite, Spezia fuori casa, Fiorentina fuori casa, poi abbiamo in casa l'Udinese e il Verona, ma volete che il Napoli, considerato una formazione competitiva anche dal sottoscritto, volete che il Napoli si scende in campo con determinazione e con il piglio autorevole che ha spesso mostrato in questa stagione? Volete che il Napoli, pur in assenza di Coulibaly, di Maximovic, di Goulin, forse Ospina no, forse Ospina ritorna, non possa vincere queste quattro partite? Ma io ritengo che ormai quando i giochi sono fatti non conta più l'io ma conta il noi, quindi è inutile che stiamo a vedere manca Coulibaly, giocherà Rachmani che comunque è un ottimo difensore, ma pure se non fosse un ottimo difensore io sono convinto che lo diventerebbe perché quando la stagione volge al termine anche anche le pecorelle diventano leoni se sanno di dover trasformare se stessi per ottenere un risultato. Il Napoli è squadra forte, gli mancherà Maximovic e Coulibaly secondo me per tutte e quattro le prossime partite ma volete voi che il Napoli non possa vincerle? Certo, se noi rivediamo l'ultimo quarto d'ora contro il Cagliari c'è da preoccuparsi un po', non tanto perché aveva provato a proteggere l'1-0, ma perché ho visto dei calciatori in affanno 5, volete sapere chi sono? Lozano, Mertens, Insigne, Fabian Ruiz e Genischi. Però secondo me con un po' di riposo che c'è stato nell'arco di questa settimana, si è giocato domenica scorsa e il Napoli giocherà di sabato pomeriggio, l'aria si è un po' rinfrescata quindi se proprio vogliamo utilizzare tutte le attenuanti, l'aria si è pure un po' rinfrescata e speriamo che diventi frezzante, grazie alla vittoria del Napoli contro un ottimo Spezia. Ciao.